La ventunesima squadra di questo campionato è pronta ed è ansiosa per iniziare questa stagione dove anche loro si giocano la vittoria del loro campionato. I ragazzi hanno fatto una preparazione perfetta, stanno bene, sono sereni e sono ansiosi veramente da iniziare e mai come in questo anno sono più visti così veramente concentrati. Forse il motivo solo è quello che sentono sempre di più le leghe vicine e in modo particolare la vicinanza del Presidente Presidente Gabriele Gardina che ci dobbiamo tenere stretti. Stiamo lavorando bene, stiamo facendo quello che dobbiamo fare in questo periodo e sono convinto che tutte le 20 società che hanno investito, che hanno tanta passione da dedicare al cancio possano essere gratificate anche nel nostro servizio di cancio. Noi auguriamo buon lavoro. Grazie Presidente, a te Monica.